Guarda, gara 1, purtroppo non l'abbiamo giocata, non con la cattiveria, giusto perché i ragazzi hanno comunque lottato e l'abbiamo persa a supplementare. Quando fai 4 canessia 3 punti contro 13 è difficile vincerla, anche forse arriva a supplementare. Siamo ripartiti purtroppo un po' sotto pressione anche oggi, 0-1, seconda partita in casa, sbagliando qualcosa di troppo che non dovevamo sbagliare più. Ma naturalmente ti porti questa tensione un po' nel tutto nel primo tempo, che abbiamo chiuso meno 7 anche perché a un certo punto Justice ha inventato 3 canessi consecutivi da 3 punti. Terzo quarto, siamo subito rientrati con un altro piglio, che è quello che noi dobbiamo avere per tutte le altre 3 partite di questa serie, se ne saranno 3, se vogliamo avere la speranza e la possibilità di invertire la serie. Quindi quello che abbiamo fatto sicuramente nel secondo tempo è la strada per poter provare a ribaltare la serie.